Sono un collaboratore dell'istituzione Sant'Andrea, quando c'è qualche festa partecipiamo per fare passare delle giornate diverse ai nostri ospiti che gradiscono molto. Cerchiamo di rallegrare il pomeriggio con balli, ogni mese facciamo la festa dei compleanni, oggi invece facciamo la festa del carnevale. Abbiamo tutto in maschera, avremo anche un ballo direttamente da Parigi, il ballo del can-can delle nostre animatrici e quindi i nostri ospiti passano un pomeriggio diverso e si divertono. Abbiamo molte iniziative di questo tipo, facciamo il gioco del bowling, i cori e per dirne, ce ne sono tantissime. Ecco che loro passano dei bei momenti, anche se sono qui con tutti noi. Sono molto gradite queste feste perché sono animate da una musica, cogliamo anche l'occasione per ringraziare i nostri amici musicisti che vengono spontaneamente e gratuitamente, sottolineiamolo, e tutte le volte che li chiamiamo rispondono alla nostra chiamata. Un grazie di cuore, grazie alle collaboratrici, alle volontarie soprattutto che vengono numerose in queste occasioni. e che ci aiutano molto a sollevare queste giornate. Grazie! 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 Grazie!